Wilnev secondo me invece è riuscito dove poi c'era hanno fallito anni fa con Dune hai visto il primo? purtroppo sì io te lo dico David Lynch tutta la vita ma proprio ma proprio le facce degli attori i costumi, i mecha design le scenografie cioè proprio David Lynch se lo mangia a colazione va in bagno subito dopo pranzo tranquillamente ma credo che Wilnev sia uno dei registi più sopravvalutati che siano mai esistiti che riesce a fare delle cose interessanti e delle altre che sono la banalità allo stato puro e per me infatti c'era un tizio che ha fatto il trailer comparativo, ha preso il trailer del Dune di Wilnev e lo ha comparato con delle scene del Dune di Lynch simili, per quanto mi riguarda Lynch gli fa un sedere quanto una casa proprio dice a mani basse su tutta la linea ma proprio tutta Valerio Valerio che ama il film cioè ama nel senso a lui è piaciuto è piaciuto tanto a me quindi sta un po' confuso no perché che bambi dei glitch ha preso le distanze dal Dune a lui ha preso le distanze ma per me il suo Dune è uno dei film più belli che siano mai stati fatti nella storia ci sta per carità amica di lui è così io ci ho provato non riesco a farmi lo piacere l'ho rivisto pure un'altra volta prima di vedere il primo non ci riesco a farmi vedere quello del Lynch lo so ne so veramente tante non ci sono trovi non ci sono mai fatto un seguito perché mi è piaciuto ma proprio su tutti i livelli le musiche l'atmosfera tutto ah pensate beh interessante sentire varie differenti ci sta comunque non è matematica praticamente dai ci sta vai se riesco a questo punto un po' la domanda è d'obbligo visto che stiamo parlando di comparazione di film cioè quindi dei remake cosa ne pensi quando ti fanno ti fanno un film del film o anche tre volte lo stesso film dipende nel senso remake è una cosa il reboot è un'altra quindi dipende a volte ci sono dei remake belli che sono più belli degli originali cioè la cosa di John Carpenter a me è piaciuto molto di più della cosa da un altro mondo di Hawks a volte invece sono delle schifezze nel senso il remake di Conil Barber non si poteva vedere era una cosa orribile per cui dipende dalle volte vabbè a seconda è difficile che comunque il remake sia meglio dell'originale però quando c'è sicuramente è difficile infatti penso che solo la cosa sia solo la cosa di Carpenter sia meglio dell'originale la cosa di Carpenter assolutamente van minuto